Accetta la sfida dell'anno, è il momento di metterti in gioco. It's your K-Time. It's your K-Time, il primo concorso che dà voce all'artista che in te. Offrenderti la possibilità di esprimere l'essere e la creatività che da sempre trasmette ai tuoi clienti. Con orazione, accocciature e taglio saranno questi tuoi banchi di prova. Darei voce al tuo talento e alla fine potrai dire sarò io il prossimo creative hairstylist K-Time. Vai sul sito it's your K-Time.it, leggi il regolamento, iscriviti e carica le foto dei migliori servizi che hai creato. Grazie. Grazie.